Lo Specchio, con Tamborini Vini e la sua Vinoteca Alamone. Un'esperienza unica. Tamborini Vini, una storia di famiglia dal 1944. Buonasera, per Aspera, ad Astra. Sembra un incantesimo magico la Harry Potter. In realtà, un motto in latino, caro alla nostra ospite. Sarà lei a spiegarcelo. Ospite che non ha dovuto fare tanti chilometri per arrivare qui oggi allo specchio. Perché lei è la direttrice associata del Centro Svizzolo di Calcolo Scientifico. Che sta qui a pochi chilometri dai nostri studi. E quindi oggi sì, parleremo anche, ma non solo, ma anche di supercalcolatori. Calcolatori che ci aiutano a capire il mondo e la vita. E allora diamo il benvenuto allo specchio, alla direttrice associata, o codirettrice, insomma. Va bene. Maria Grazia Giuffreda. Buonasera. Buonasera. Siamo partiti con Respect, cantato da Rita Franklin. Perché le è caro questo pezzo? A me piacciono molto le voci jazz, blues e soprattutto le voci femminili. Quindi mi fa sempre molto piacere ascoltare Aretha Franklin o Ella Fitzgerald, i classici. Questa canzone mi piace molto perché parla del rispetto. E noi donne purtroppo ancora oggi dobbiamo ricordare ai nostri colleghi, nell'ambiente in cui lavoriamo spesso, che bisogna rispettare il nostro ruolo, bisogna rispettare le nostre competenze e non bisognerebbe fare delle differenze. Quindi è sempre... E poi è allegro, mi mette di buon umore. Un tema comunque tosto e a volte irrisolto, forse in modo particolare nell'ambiente scientifico, dove noi ci siamo fatta l'idea degli scienziati nerd, occhialini e camice bianco, però i temi importanti si possono anche risolvere e cantare, a volte con un po' di leggerezza. Rimane il sospeso significato della... Per aspera ad astra. Adesso me lo deve sciogliere questo motto, perché sembra un abracadabra. No, non è un abracadabra, è la saggezza latina. È una frase che in realtà significa attraverso le difficoltà verso le stelle, si raggiungono le stelle. La vita è complessa, ci sono tanti ostacoli, ci sono tante difficoltà, forse per noi ragazze e per noi donne ci sono più difficoltà alle volte che per i nostri colleghi, però con l'impegno, con la determinazione, con la buona volontà si arriva alle stelle. Certo, poi c'è chi fa delle gaffe tremende, perché io mi ricordo un caso, il CERN di Ginevra, il CERN è tra l'altro una struttura che richiede i vostri servizi, e un fisico professore universitario ha detto che la fisica è solo per gli uomini. Ovviamente questa è un abutad un po' imprudente, considerato che il CERN è diretto da una donna, Fabiola Gianotti, quindi penso che l'ha fatta proprio grossa. Infatti è stato licenziato. Ma questo è un abutad isolato oppure la punta di un iceberg? Cioè persiste questo luogo comune che le donne si devono dedicare ad altro e non alla scienza? Persiste questo luogo comune, devo dire la verità. Le cose stanno migliorando, assolutamente sì. Ci sono alcune discipline dove le ragazze vanno più volentieri perché le si vede come già abbastanza aperte alle donne come la medicina, ma la fisica soprattutto è ancora estremamente maschilista e devo dire che però non corrisponde alla realtà perché è la società che purtroppo crea questi luoghi comuni e poi le ragazze trovano un po' difficile anche solo pensare di poter affrontare determinati studi. Ma io le potrei fare il nome di molte fisiche femminili, fisiche che hanno lasciato il segno nella fisica. Non ci dimentichiamo che la prima persona ad aver vinto due premi Nobel nelle scienze, uno in fisica e uno in chimica, è la Marie Curie. Quindi alla fine, nonostante Marie Curie abbia avuto una vita difficilissima perché le hanno messo molti bastoni fra le ruote i colleghi, quindi non è stato in un momento in cui era facile, eppure ha dimostrato che... Poi ha pagato anche fisicamente, sulla sua pelle, proprio la disciplina che stava investigando. Sì, via della radiochimica nel modo più assoluto. Poi vabbè Rita Levi-Montalcini, un altro esempio. Anche la Ursula Keller dei giorni nostri è all'avanguardia, del Politecnico federale di Zurigo è all'avanguardia nella scienza dei laser ultraveloci. I laser ultraveloci sono quelli che vengono utilizzati per esempio nelle operazioni, quando si vogliono fare le operazioni agli occhi adesso, si fanno con laser. Quindi lei è all'avanguardia in questa... E ce ne sono comunque, Margherita Ack, ci ricordiamo. A Margherita Ack, certamente. Simpaticissima, Amalia Ercoli-Finzi, un'astrofisica che è partita a studiare al Politecnico di Milano quando non c'erano nemmeno i bagni per le donne. E allora com'è che una ragazza pugliese che mi risulta abbia iniziato ad interrogarsi sui grandi misteri del mondo con le lettere, con i libri, con leggendo favole? Come mai una ragazza pugliese che amava i libri e che ha studiato latino e greco e quindi ha intrapreso una carriera letteraria con il liceo classico. Poi a un certo punto ha deciso di affrontare la scienza, di studiarla, andando poi a Bologna a studiare, poi facendo il dottorato in Belgio, post-dottorato all'ITH di Zurigo. E così ho più o meno raccontato un po' il percorso. Da dove viene questa fame di scienza? Io sono sempre stata una ragazza molto amante della lettura, quindi i miei interessi hanno sempre spaziato un po' dappertutto. Devo dire che la molla che mi ha fatto veramente cominciare a pensare che le scienze potevano essere un'alternativa è stato proprio al liceo classico, perché è vero che io amavo molto, soprattutto letteratura latina, greca, letteratura italiana, però io avevo un professore di scienze che era un tipo troppo, troppo cool, diremmo noi, giovani moderni, ma troppo, perché era una persona estremamente, a me piaceva molto, era estremamente ironico un po', ma non in senso negativo per i ragazzi. E quindi mi interessava, mi faceva piacere studiare e approfondire, anche quando non era magari necessariamente richiesto, perché la scienza, un liceo classico, non è veramente centrale. E poi anche la matematica. Mi ero appassionata non poco alla matematica, e quindi io ho studiato al liceo classico, ma una delle materie che ho portato alla maturità è stata matematica. La matematica appunto offre delle risposte matematiche attraverso i numeri. Anche la letteratura però dà delle risposte sulla complessità del creato, per chi ci crede. Ma no, assolutamente. Abbiamo bisogno di entrambe i punti di vista. Abbiamo bisogno del punto di vista scientifico, perché bisogna rimanere ancorati alla realtà. Ma con questo non bisogna sottovalutare l'importanza della psiche umana, e quindi dell'intelligenza umana, delle emozioni. Quindi l'essere umano è complesso. Non lo si può racchiudere in una singola scatola e dire solo la scienza ci può aiutare a vivere meglio. La scienza ci può aiutare a vivere meglio, perché ci aiuta a risolvere molti problemi. Adesso se si vive così a lungo è grazie alla scienza. Ma non dobbiamo sottovalutare che per vivere bene bisogna anche essere... Non voglio usare una parola così grande come felici, ma bisogna trovare una soddisfazione anche interiore e un equilibrio interiore. Assolutamente sì. In casa che aria si respirava? E sui genitori cosa facevano? I miei genitori, io vengo da una famiglia di avvocati e di letterari e qualche medico. Quindi i miei genitori, la mia mamma è laureata in lettere classiche, il mio papà è avvocato. I miei fratelli sono giurisprudenza, letteratura, più o meno, ho cugini, tutti nella stessa direzione. Un miglior molto fertile e creativo, verso la gaia scienza quindi. Loro hanno sempre... Per loro è sempre stato estremamente importante che si continuasse. Cioè l'educazione era fondamentale. Però non sono mai stati restrittivi nel senso di dire quello che bisognava studiare. Cioè il mio papà, sì, liceo classico era obbligatorio, però dopo l'università era obbligatoria. Ma qualunque cosa... Libertà. Qualunque facoltà andava bene, l'importante era trovare un interesse per continuare. E l'interesse lei l'ha trovato nella chimica teorica e computazionale, poi post-dottorato appunto all'ITH a Zurigo. E quindi lei il centro di calcolo lo frequentava da ricercatrice. Cioè solo successivamente nel 2006, poi passata dall'altra parte a fornire servizi ai ricercatori. Quindi si è beccata una cotta, un po' per il centro di calcolo proprio da studentessa. Lei si è specializzata sul carbonio. Mi dicono che io... Se penso al carbonio mi vengono in mente le matite e i diamanti. Ma c'è altro? C'è altro. Le matite e il carbonio... No, il carbonio è un elemento fondamentale. È veramente fondamentale. È vero, il carbonio ha tre forme. La graffite la conosciamo tutti perché scriviamo tutti con le matite. I diamanti is the best, best friend. Però lei non ha portato diamanti oggi. No, io sono una donna tipica in questo senso. Non vedo gioielli. Non sono molto da gioielli. Sono sempre stata... Non mi hanno mai appassionato più di tanti. Ma c'è poi una terza forma che si chiama Fullerene. Tutti noi, soprattutto voi signori, conoscete i palloni del calcio, vero? Anche le signore. Perché sfatiamo. Perché adesso sta tornando... No, c'è stato un gran parlare anche del campionato mondiale femminile. Femminile con gli stadi pieni. L'Inghilterra ha vinto. Sì, sì, no, ha ragione. Adesso sono io che creo gli stereotipi. Ha ragione. Quindi questi Fullerene non sono altro che il carbonio, puro carbonio, che forma una struttura che è esattamente identica come quella del pallone da calcio. Quindi pentagoni ed esagoni che si combinano in una forma estremamente stabile. Erano stati scoperti negli anni 90. Nel 96 Croto, che è stato lo scienziato che li ha scoperti, ha ricevuto il premio Nobel. E io ho fatto la tesi di laurea sui Fullereni. E di lì mi sono appassionata e poi ho voluto fare un dottorato che continuava sempre a studiare questo carbonio nelle varie forme. E poi sono arrivata qui. Ma quindi che si tratti di Ulisse o di Maria Grazia Giuffreda, alla fine il nostro destino di esseri umani è quello di inseguire virtù e conoscenza per citare il grande sommo poeta Dante. E quindi ci dobbiamo mettere a confronto con l'ignoto. Che l'ignoto lo si guardi attraverso lenti di un microscopio oppure attraverso un telescopio, noi quello che stiamo facendo è dare dei morsi alla mela della conoscenza. Infatti l'Apple ha avuto il simbolo, il brand, la mela di un po' di Biblica Memoria che non andava toccata. Ma lì il morsolo lo diamo. Ma a furia di dare morsi a questa mela non rischiamo di uccidere il mistero. Cioè Maria Grazia Giuffreda, scienziata, non uccide la Maria Grazia Giuffreda bambina che si appassionava alle favole. Ma no, perché in realtà l'uomo è spinto dalla conoscenza. Se l'uomo non fosse stato spinto dalla conoscenza non sarebbe evoluto come ha fatto. Cioè saremmo rimasti a vivere nelle caverne o allo stato animale come le scimmie o come altri animali. Quindi c'è qualcosa in noi che ci spinge a voler sapere di più, a voler capire il mondo che ci circonda, a voler conoscere. Detto questo, come ho detto anche prima, il fatto di voler essere, di voler capire il mondo da un punto di vista scientifico e di voler capire quali sono le leggi e come funziona, le leggi della fisica o come funziona il corpo umano dal punto di vista proprio scientifico, non toglie il fatto che l'interesse per il lato umano, psicologico, per le emozioni sia altrettanto fondamentale. La scienza poi si basava e operava sempre attraverso i due grandi pilastri, una le teorie e poi gli esperimenti empirici. E qui arriviamo a pochi chilometri da qua, al centro svizzero per il calcolo scientifico che opera attraverso le scienze computazionali, cioè modelli matematici che simulano degli eventi che altrimenti non sarebbe possibile realizzare. Per dirne una, un terremoto viene analizzato attraverso i computer perché ovviamente non si può mettere... E infatti è stato alla fine degli anni 90 che la teoria e la sperimentazione, quindi gli esperimenti, sono stati affiancati da quello che poi è stato definito il terzo pilastro della ricerca scientifica, vale a dire le simulazioni. Simulazioni perché simulano il mondo reale. E è stato alla fine degli anni 90 perché le simulazioni all'inizio sono state... Sono eglette. No, hanno trovato grande scetticismo. Ecco. Perché come potevano mai i computer aiutare a... Poi, ricordiamoci sempre che sono gli esseri umani che definiscono i modelli matematici, sono gli esseri umani che prendono il modello matematico e lo trascrivono... Sono gli esseri umani che creano i robot. Esatto. E quindi, agli inizi avevano molti problemi, molti errori, molti bugs, si dice nel... Solo che poi a un certo punto, appunto, verso metà, fine degli anni 90, le simulazioni hanno cominciato a prevedere, a prevedere quello che sarebbe risultato dagli esperimenti, a correggere gli esperimenti, nel senso che i ricercatori, gli sperimentalisti, avevano tratto le conclusioni sbagliate o spiegato l'esperimento in modo sbagliato. E invece, dalla simulazione, si potevano vedere esattamente i meccanismi e quindi dare la giusta spiegazione. Per prevedere. Esatto. e poi quindi, alla fine, si è visto il vero valore della simulazione e quindi quasi, io non vorrei esagerare, ma tutte le discipline che siano scientifiche o che siano umanistiche hanno poi sviluppato un ramo specializzato nello studio computazionale. Certo. Quindi serve per la simulazione per prevedere quello che accadrà. La classica applicazione spendibile, penso anche in modo divulgativo, sono ovviamente le previsioni del tempo. cioè mettendo in questi calcolatori oggi ci sono 80% di umidità, vento, stagione, si prevede che domani pioverà. Quindi pilota la nostra vita nella quotidianità. Perché io mi sveglio il mattino, guardo l'applicazione e dico oggi prendo la bici per andare al lavoro oppure il bus. Devo prendere l'ombrello o no? E poi ovviamente ci sono applicazioni in infiniti settori, in mente il campo clinico assolutamente per la diagnostica Ma anche nella farmaceutica. Nella farmaceutica col Covid penso che ci sono stati degli studi. Il vero aiuto che viene da questi supercalcolatori è il fatto che con una simulazione o con delle simulazioni si possono analizzare un enorme numero di composti. E quindi quando si cerca un rimedio a una malattia o come bloccare l'azione di un virus oramai siamo stati afflitti tutti per due anni e più da questo Covid e quindi la simulazione aiuta a analizzare quali sono le molecole che hanno le proprietà necessarie per poter bloccare l'effetto di un determinato virus per esempio. e ovviamente analizzano centinaia di migliaia di molecole e quindi poi si arriva con le dieci molecole più plausibili per risolvere il problema e con quelle dieci molecole si va in laboratorio a fare la sperimentazione e poi la sperimentazione è un pilastro fondamentale da affiancare agli altri ovviamente per fare questi lavori c'è bisogno di computer sempre più potenti si era partiti con la lungimiranza del governo federale nel mettere in piedi questo centro che era a mano all'inizio poi è stato spostato a Lugano e richiede ovviamente dei calcolatori sempre più potenti mi risulta che nel 91 Adula forse era il nome del primo computer aveva una potenza di un decimo degli attuali smartphone si arriverà poi chissà dei computer ma qui viene una domanda visto che con la simulazione si può prevedere un po' il futuro se noi avessimo in disposizione un computer incredibilmente potente infinitamente potente e vi mettessimo tutti i dati del presente e del passato sarebbe possibile in questo caso prevedere il futuro oppure l'uomo vive in modo irriducibile di scarti imprevedibili e quindi la natura non si potrà mai prevedere il futuro perché la natura umana è imprevedibile quello che ci sembra standard adesso potrebbe non essere standard e potrebbe non essere più presente nella vita nella nostra vita fra dieci anni come io dico sempre e continuerò a dire i computer sono frutto della mente umana i robot sono frutto della mente umana la mente umana è creativa è imprevedibile ha una grande immaginazione e quindi si potranno certo si potrebbero fare delle proiezioni su come potrebbe evolvere la specie umana su quali potrebbero essere le conseguenze del cambiamento climatico quindi si potrebbero fare delle previsioni ma da qui a dire come evolverà la civiltà assolutamente per fortuna le macchine quindi non riescono ad empatizzare come fanno gli uomini le macchine non contemplano l'amore noi amiamo le macchine ma le macchine non hanno perché non hanno emozioni invece e le macchine ovviamente forse non si sanno esprimere sul piano artistico come invece sapeva fare Billy Wilder I want to be loved by you just you nobody else but you I want to be loved by you alone I want to be kissed by you just you nobody else but you I want to be kissed by you alone I couldn't aspire to anything higher than to feel the desire Allora, direttrice Maria Grazia Giuffreda questo mi sorprende siamo partiti con Respect cantato di The Frank Catutto Mood e lei mi porta in studio come coup de coeur cinematografico Marilyn Monroe perché? Ma in realtà Marilyn Monroe in realtà ha avuto una vita abbastanza complessa anche lei però non è ma io sono io sono una fan allora sono una fan dei film classici questo questo va detto ma in realtà questo è un film fantastico è un film che mi mette sempre di buon umore e soprattutto poi la la frase finale come si conclude questo film con John Lennon che viene a cui viene fatta una proposta di matrimonio e lui conclude e lui dice ma vedi io no proprio non posso perché non sono una donna sono un uomo e l'altro alla fine conclude nel film conclude ma cara non ti preoccupare nessuno è perfetto ecco e questo per me questo è il messaggio fondamentale sì è vero che la Mary Morrow rappresenta lo stereotipo massimo però io non è in realtà io vorrei anche dire che io non ho un problema a che le donne si presentino come 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 una panterona alla fine l'importante è che lo si faccia perché è quello che uno veramente si sente di essere e non perché è la società che ti spinge ad essere in un determinato modo se una donna ama vestirsi ama truccarsi ma ben venga ma lo deve fare per se stessa non per gli altri io non sono interessata ma non sono interessata quindi se il commento può essere meno mi va bene lo stesso io quello che dico è che bisogna essere se stessi non bisogna comportarsi in base alle aspettative di altri nemmeno del proprio compagno no non bisogna ma perché le aspettative sono da entrambe le parti voglio dire quindi alla fine si potrebbe esigere la stessa cosa dall'altra parte e non dovrebbe essere quella la vera la vera base come non dovrebbero essere le ragazze non dovrebbero farsi spaventare dallo studiare le materie scientifiche tecniche perché alla fine è solo la determinazione e la convinzione in quello che si fa che ti porta al successo non è un dono divino non è tutte abbiamo avuto e tutti immagino abbiamo avuto più o meno difficoltà nel nostro cammino non penso che nessuno di noi possa dire che è sempre stato tutto facilissimo tutto semplicissimo a proposito io qui volevo intervenire lei assecondando la sua passione per la scienza può essere considerato e viene citato spesso un cervello in fuga sicuramente credo che lo si possa dire nel suo caso ma i cervelli in fuga quando se ne vanno si voltano emotivamente al passato o tagliano i fili con le proprie origini col proprio passato noi siamo abituati a un'emigrazione che era quella per esempio del secondario quando gli operai venivano in Svizzera con le valigie di cartone però poi dalla valigia di cartone tornavano alla casa in mattone meridione perché comunque non perdevano mai come punto di riferimento ai centri di gravità permanente per citare Battiato non perdevano mai di vista la loro Heimweh la loro casa le loro origini nel suo caso com'è? Lei qui ha sempre un pensiero nostalgico quando è a Lugano No io devo essere molto molto onesta io in realtà pur essendo stata ha avuto un'infanzia tranquilla con genitori che erano rigidi per certe cose ma non la mia mamma ha convinto mio papà a farmi viaggiare che avevo 15 anni da sola quindi non è niente di però io no in realtà ho studiato la scienza anche perché ero convinta all'epoca forse dopo mi sono ricreduto un po' ma ero convinta che le scienze erano l'unica erano forse una delle poche facoltà che permettevano di uscire perché le scienze io questo lo credo ancora oggi le scienze non hanno confini non hanno confini geografici non hanno nazionalità c'è una c'è una la componente c'è il contributo svizzero alla scienza ma non c'è una scienza svizzera non c'è una scienza italiana quindi è veramente senza orizzonti ora le problematiche politiche sono diverse quando si fanno ricerche particolari e va bene ma in realtà la scienza è senza confini gli scienziati cercano la collaborazione gli scienziati vogliono il confronto vogliono avere il dialogo con con gli americani con gli asiatici con gli israeliani con i giapponesi è una disciplina di grande movimento è sempre stata senza confini e quindi io volevo e io volevo andare volevo veramente ma certo perché in Italia comunque è noto che la ricerca non è finanziata o la minima parte esatto non è mai stata al centro dell'interesse della nazione ma si vede già l'educazione non è considerata fondamentale perché gli insegnanti sono la classe pagata peggio pagata dell'Italia certo il prestigio sociale passa poi anche dalla considerazione salariale ma non è giusto perché gli insegnanti le scuole formano la società del futuro e quindi bisognerebbe investire molto di più bisognererebbe investire nella ricerca nella tecnologia nell'innovazione perché questo è il mondo in cui viviamo Indro Montanelli aveva una tesi dice l'Italia è poco scientifica ama poco forse la scienza anche se poi abbiamo citato dei grandi nomi di scienziati italiani quindi tutto assolutamente è possibile sosteneva che è un popolo dedito e lo sosteneva a lui su parole che riporto io un po' un servilismo nei confronti degli invasori che erano potenti e quindi si sono specializzati in tutte quelle discipline che erano utili ad accogliere gli invasori quindi grandi sarti cuochi artisti un popolo di artisti sostanzialmente lo spiegava così io non so se ci sta però è difficile che nel paese convivano Pino Daniele e Maria Grazia Giuffreda o no gli scienziati in realtà io non sono troppo d'accordo anche se Indro Montanelli per certe cose mi piaceva ma non su tutto perché in realtà anche gli scienziati sono quelli veramente bravi sono creativi e hanno un'immensa immaginazione perché per riuscire a fare a trovare veramente cose nuove nella scienza nella ricerca nella innovazione nella tecnologia bisogna pensare oltre bisogna pensare al di fuori dell'ordinario e quindi forse il pregio degli italiani è proprio l'estrema creatività ora per me personalmente però io ho più a me ho più tagliato i ponti con l'Italia ma non nel senso vado sempre molto volentieri in vacanza è un paese bellissimo ma non amo molto la politica e l'approccio alla ricerca alla innovazione e quindi io una volta che sono andata via poi non sono più tornata io ho lasciato il paese dopo l'università chiedo scusa e poi non sono più tornata non ho mai lavorato in Italia perché non condivido il modo di essere e quindi per me è stato più un tagliare i ponti certo gli affetti ci sono sempre che l'Italia sia un paese bellissimo ma non lo nega nessuno e non lo negherà mai nessuno che l'estro artistico italiano non ha uguali anche questo è vero però ripeto anche chi fa scienza anche chi fa ricerca e anche chi fa ricerca nella tecnologia ha bisogno di una grande creatività e ha bisogno di avere veramente una mente aperta e lo ha dimostrato io purtroppo devo chiudere invece il programma perché siamo giunti col minutaggio al trentesimo in calcio si dice al novantesimo noi diciamo al trentesimo e noi chiudiamo sempre con il biscottino dalla fortuna c'è un messaggio lei conosce molte lingue non so quale lingua troverà c'è anche l'italiano comunque ok allora è italiano è italiano sì oh no sì no è inglese da un lato in italiano all'altro facciamo in italiano esatto per me e per il nostro pubblico per voi le cose stanno migliorando vabbè com'è positive changes are about to come e va bene bello no ma sì molto bello spero di sì speriamo siamo partiti il cambiamento è sempre positivo assolutamente Maria Grazia Giuffreda grazie per essere stata in nostra compagnia e buon lavoro grazie a voi risentiremo ogni quattro anni aggiornamenti software hardware esatto partiti con l'adula adesso c'è alps nel 2023 esatto all'everest si arriverà mai dei computer politicamente però è un po' siamo già all'exascale abbiamo raggiunto l'exascale quindi 10 alla 18 operazioni matematiche al secondo quindi miliardi di miliardi di operazioni matematiche al secondo vedremo che però non riusciranno mai a contemplare l'amore su questo le emozioni no le emozioni no grazie 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 di cuore grazie anche a voi per essere stati in nostra compagnia ci rivediamo fra una settimana con un'altra edizione dello specchio buona serata lo specchio con Tamborini Vini e la sua vinoteca con un ampio assortimento di prodotti per ogni gusto Tamborini Vini Lamone